Senti, ma dimmi una cosa invece, per quanto riguarda il tuo libro, ricordiamo appunto Pornoromantica di Carolina Cutolo, tra l'altro che hai proposto a tanti editori, però mi sembra che non tutti hanno risposto positivamente. No, infatti, no, però bisogna dire che quando passai per questo invio del manoscritto e lo inviai a una ventina di case editrici, in realtà era ancora un copia in colla del blog da cui nasceva. Poi grazie all'incontro con un giovane scrittore che si chiama Mario Desiati che mi scrisse e voleva leggere il manoscritto, mi consigliò di inventarmi un espediente narrativo, una storia da raccontare in qualche modo, quindi mentre stavo scrivendo questo nuovo formato romanzato, diciamo, mi fece un articolo alla rivista XL di Repubblica e grazie a quello mi hanno contattato alcune case editrici, quindi quando incontrai Fazzi con cui poi ho pubblicato gli portai i primi due capitoli di un nuovo formato, quindi in fondo non mi stupisce poi a posteriori che il primo manoscritto, che era un po' un magma di idee, fosse stato scartato e invece, guarda caso, quello su cui avevo lavorato di più poi la Fazzi ha letto i primi due capitoli e mi ha subito messo il contratto sotto al naso. E tu come hai reagito lì? Beh, diciamo, mi ha iniziato a darmi i pizzicotti perché dicevo, vabbè, ma è un sogno della mia mente malata oppure sta succedendo veramente? Senti, innanzitutto come nasce? Partiamo, raccontiamo la genesi del libro. Innanzitutto è nato il blog. È nato il blog. Ecco, come ti sei alzata, tu naturalmente hai studiato sociologia, sei laureata in sociologia, tra l'altro con una tesi sempre sulla vignetta satirica durante l'ascesa del fascismo. Esatto. Perciò la satira, questa è una cosa tra l'altro che è molto, se pensiamo un po' alla satira che è stata molto attaccata poi anche ultimamente da alcuni politici, ricordiamo per esempio un'incursione a quelli che è il calcio, per esempio di un certo ex ministro delle comunicazioni Gasparri. C'è ancora un articolo sui tali media che dice quelli che puntini la democrazia, questo è un articolo che è stato scritto all'epoca, senza calcolare, insomma le vignette satiriche sono state sempre piuttosto bersagliate, però ecco da destra e da sinistra perché anche D'Alema ha protestato un paio di volte, penso mi sembra, su alcune vignette che erano state scritte. Anche se pensi a una cosa, che la vignetta satirica lei forse potrà dire qualcosa di più di me, comunque già nel 700 e nell'800, soprattutto quella politica era il mezzo per dire qualcosa della politica nel tempo. Esatto, bravissima, ma soprattutto per in qualche modo con la risata, con lo scherzo, con il motto di spirito sbeffeggiare a quei tempi le tirannie, a questi tempi comunque i rappresentanti del potere, quindi è proprio anche Luttazzi, insomma, che come autore satirico è stato vittima anche di censura, lo dice lui stesso, quello che distingue la comicità dalla satira è proprio che la satira tende a prendere in giro il potere con le sue contraddizioni. di due giornalisti in un diktat, un famoso diktat bulgaro, era in buona compagnia con due giornalisti, Giuseppe già si ricorda chiaramente. Comunque no, tra l'altro c'è invece, che poi la causa di tutta quella esclusione di Luttazzi fu la participazione di Marco Travaglio, la sua trasmissione, che ultimamente invece ha grande libertà, tra l'altro nella trasmissione di uno dei tre esclusi dell'epoca. Adesso i nostri esclusi hanno già capito, noi facciamo i nomi di Santoro, Biaggi, vogliamo fare i suoi nomi, non voglio fare i nomi, i nomi non li faccio, Biaggi, Santoro e Luttazzi. No, ma tutti lo sanno, credo. No, ma poi se posso, scusami, concludere spezzando una lancia in favore di Luttazzi che per me è un grande, tutte le cause che sono state fatte a Luttazzi e a Travaglio per quella trasmissione per Satiricon, sono state tutte vinte da Luttazzi e da Travaglio, quindi i motivi per cui è stata censurata la trasmissione non sussistevano, eppure è stata censurata eppure Luttazzi non torna in televisione. Diciamo che c'è anche un famoso articolo di una legge del 57, il testo unico sulla legge elettorale, sulle elezioni amministrative e politiche, praticamente prevede che un personaggio come Berlusconi, questo già dal 94, si sapeva prima che si, è una persona, sì, diciamo prevede che Berlusconi sia una persona ineleggibile, no illegibile, ineleggibile, praticamente però nello stesso tempo è stato lo stesso eletto, nessuno se ne è fregato di una norma codificata legislativamente, perciò c'è anche un signor Previti effettivamente che è stato escluso dal Parlamento quasi un anno fa, però il signor Bertinotti, che è un certo presidente della Camera, un certo signor Bertinotti, si guarda bene e non riesce a trovare un minuto di tempo per dire al signor Previti prego si accomodi fuori perché lei non deve prendere più prevede 37 milioni al mese come deputato, ma al massimo si può contare della pensione che non è poi una pensione sociale, insomma. Adesso Cirielli o indulti a parte, in ogni caso il Previti è decaduto, però ripeto, il Presidente della Camera, che è uno di rifondazione comunista, ha gli antipodi tra l'altro, però non vorrei poi parlare della cosiddetta, della famosa Movicop, che è una cooperativa rossa che negli anni scorsi, fino al 97 soprattutto, quando poi nel 97 è stata legalizzata la prassi del lavoro in prestito, prima del 97 la legge lo vietava, eppure la Movicop forniva manodopera per le trasmissioni televisive di Mediaset, ecco, pochi sanno queste cose, purtroppo però bisogna, a ricordi di verità, soprattutto a dire del vero, bisogna dirle sicuramente. Perciò io non voglio dire, caro Presidente Bertinotti, perché il signor Previti sta ancora in Parlamento, a lei la risposta. Bene, comunque, ritorniamo ancora a parlare di, appunto, di porno romantica, ma adesso mi ha curiosito la tua tesi, però, ma ci parli un po' della vignetta durante la scesa del fascismo, così poi arriviamo a porno romantica, io voglio capire il tuo escursus anche mentale, diciamo intellettuale, per poter arrivare poi a quello che hai scritto. Ma guarda, forse il collegamento tra le due cose è che io, prima di una certa età ero completamente priva di ironia, quindi ero un'integralista romantica che vedeva tutto bianco o nero, non avevo sfumature e me ne perdevo molte, dunque, della vita reale che invece ne è piena. Quindi, quando ho iniziato a conoscere persone dotate di questa, di ironia proprio, quindi della capacità di ridere su se stessi, di distaccarsi dalle cose, prenderle in giro piuttosto che drammatizzarle, ho deciso, insomma, verso la fine dell'università appunto di proprio studiare attraverso la tesi di laurea, che appunto è un'occasione di approfondimento, la satira. Quindi, siccome però mi era andata un po' in antipatia tutta, io mi sono laureata in sociologia delle comunicazioni di massa, però insomma non mi era poi alla fine piaciuto granché questo approccio mediatico, la massa come se fossero tutti stupidini da manipolare. E quindi sono tornata indietro nel tempo e mi divertiva appunto vedere la satira come trattava appunto la tirannia, forse, insomma, più celebre e sicuramente più recente di questo paese. E quindi ho analizzato le vignette satiriche delle riviste comiche, satiriche appunto, dal 1919, che è la data in cui venne bruciata la prima sede dell'Avanti, al 1925, che purtroppo insomma è la data in cui si chiude ogni libertà di espressione in Italia, in cui vengono veramente chiusi tutti i giornali che non sono allineati con il regime nascente. E mi sono divertita un sacco perché c'erano delle cose, sì, a volte anche vignette molto ingenue, però io ho trovato estremamente divertente andare a scartabellare in libreria nazionale queste riviste antiche, toccarle con le mie mani e vedere come si prendeva insomma in giro il potere di allora. E tra l'altro, insomma, io mi sono laureata nel 2002, alcune vignette, insomma, era abbastanza inquietante l'analogia con una serie di altre vignette attuali su un ex presidente del Consiglio, tipo, c'erano delle vignette che prendevano in giro, per esempio, Mussolini perché si paventava, insomma, il suo passato da muratore e si autoproclamava il presidente muratore, insomma. Erano riconosamente censurate, chiaramente. No, queste ancora c'erano, ancora c'erano, se non le avrei chiesto. Cioè, come era la censura all'epoca? Ma la censura, diciamo che venivano mandati, soprattutto nell'ultimo periodo, proprio dei diktat su che cosa si poteva parlare e di cosa no, quindi veniva impedito di trattare una serie di argomenti. Ma tanti argomenti sono stati impediti durante il fascismo, non si poteva parlare, per esempio, di situazioni tragiche, non si poteva parlare di suicidi, quindi c'erano delle situazioni che non dipendevano, certo, non erano situazioni politiche che non potevano essere trattate e quindi il fascismo ha cercato di incanalare un po' anche tutta la cultura del tempo, così anche la letteratura, così anche la radio, la stessa radio, perché poi quando è nata la radio sono successe le stesse cose, stessa cosa è successa con il nazismo ed è successa con la prima televisione, perché voi dovete sapere che la televisione è solo un po' ma è stato ragazz vaccine.